Buongiorno a chi fa il pane, a chi lava le strade, a chi vende il giornale. E a chi prepara il caffè. Buongiorno a chi va a scuola, a chi inizia il lavoro, a chi finisce il turno e a dormire ora va. Buongiorno, buongiorno a chi si sveglia con me. Buongiorno, buongiorno a chi si sveglia con me. Al vigile, al postino, al nonno e al bambino, a chi sta poco bene e chi è guarito di già. Buongiorno a chi si sveglia con me. Buongiorno a chi si sveglia con me.